I motivi della manifestazione di questa mattina che si è estrinsegata attraverso un flash mob fatto in Piazzetta Duca d'Aosta in via Toledo ed ora ci porta presso la prefettura per un incontro con il prefetto è la necessità per i pensionati innanzitutto, per gli anziani innanzitutto, di avere chiarezza in ordine alle problematiche che ci interessano e nel documento che abbiamo predisposto e che consegneremo al prefetto da qui a poco ci sono elencate tutte le nostre riflessioni e le osservazioni in ordine a quanto sta accadendo in Italia e tutto quello che oggi accade in Italia, specialmente dopo l'insediamento del governo cosiddetto del cambiamento ha confuso le idee ancora di più ai pensionati ma siccome i pensionati non è che si identificano negli anziani di oggi che hanno una pensione magari hanno raggiunto i 70, 80, 90 anni ma sono i pensionati che noi riteniamo in Italia debbano comunque esserci da qui a 50 anni, a 100 anni perché la politica di salvaguardia della vita degli anziani rientra nelle nostre prerogative di partito che nasce per questi motivi. Allora noi vorremmo avere chiarezza e la chiarezza fondamentale qual è? È quella di sapere finalmente, e adesso cambierà il Presidente dell'Inps che fine fanno i contributi che tutti i lavoratori versano e tutte le aziende versano a favore dei lavoratori per accumulare quella famosa pensione che non è altro che una retribuzione differita che fa parte dei patti tra lavoratore e Stato se lo Stato non rispetta più e non sta rispettando più le prerogative del pensionato allora questo ci preoccupa ma ci preoccupa per i giovani soprattutto ci preoccupa per le donne e ci preoccupa lo Stato che esiste in Italia nell'ambito del nucleo fondamentale che regge le sorti di questo Stato che è la famiglia cioè non esiste una politica per la famiglia esistono soltanto delle numerose forme di assistenza che lo Stato utilizza per mantenere in piedi la politica in tutte le sue frantumazioni tutto questo danneggia la famiglia tutto questo crea questa confusione a livello familiare che si trasmette poi nell'ambito dello Stato con quello che tutti quanti noi siamo costretti a sopportare ora di fronte a queste cose noi con il partito pensionato abbiamo avuto delle difficoltà in certi momenti per manifestare tutto quanto stiamo dicendo abbiamo ritenuto che una iniziativa che potesse partire non da esempi che sono esempi di violenza che sono esempi di interventi strani nell'ambito delle realtà dove sono nati i famosi gilebbi gialli e tutto quello che ne è seguito in altri paesi ancora noi siamo gilebbi anche che non vogliono fare altro che allargare la visuale dell'interessamento che non si ferma ai pensionati agli anziani ma che passa attraverso il mondo della donna che passa attraverso il mondo dei giovani per i quali chiediamo basta con le forme di assistenza vogliamo lavoro vogliamo investimenti pubblici vogliamo investimenti privati che se non ci sono i pubblici investimenti non ci saranno incentivi per i privati e lo Stato anziché darsi da fare per situazioni che poi portano al blocco dell'economia in Italia e lo stiamo vedendo dovrebbe soltanto pensare a rendere agibili i territori nei quali gli inserimenti devono essere fatti e parlo della criminalità organizzata parlo delle forme di violenza che ci sono e sono diffuse nell'ambito dei territori in particolare della Campania e qui vale la pena fare un accenno a quello che sta accadendo perché un governo che in questo contesto si interessa di rendere le regioni del nord più forti di quelle che sono senza pensare a quello che siamo noi nel meridione veramente siamo fuori di testa